sono un investitore da dividendo e su questo non si scappa ma non sono un fanatico dei dividendi non vedo dividend yield sullo specchio del bagno e cerco di valutare le aziende le azioni in base a quello che sono se sono gestite bene profittevoli se hanno piani futuri importanti se pianificano bene le finanze se hanno un ottimo management in base a questo decido se fare un investimento o meno e per cui oggi voglio dirti quali sono le aziende che vorrei acquistare nel 2023 anche se queste non distribuiscono dividendi ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario aif ed autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale puoi trovare il link qui sotto nella descrizione nel caso tu lo volessi acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da adebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole trovi il link sia per la versione cartacea che per quella kindle qui sotto nella descrizione appunto di questo video la mia prima scelta cale su the world disney company con il ticker di is questa è una società di intrattenimento mondiale che da quando ho un bimbo capisco quanto potente sia il suo brand il suo controllo sulle menti dei nostri bambini visto che ormai canto a memoria le canzoni di incanto e di frozen 1 e frozen 2 sia in inglese che in italiano i parchi a tema crogiolo di fatturato che era andato in crisi durante il lockdown pandemici sono ora a regime così come i profitti dell'universo marvel dei cinema e dei cartelli animati e dei classici che ogni anno vengono fuori negozi tematici che fortunatamente nelle piccole realtà cittadine come in quella in cui vivo io non ci sono ma che comunque prima o poi mio figlio scoprirà che esistono ma anche royalties e club vacanze entertainment a 360 gradi sia fisico che online per recepire tutti i segmenti di popolazione the world disney company ha riportato risultati degli utili per il quarto trimestre e l'intero anno conclusosi il primo ottobre 2022 per il quarto trimestre la società ha registrato un fatturato di 20.1 miliardi di dollari rispetto ai 18.5 miliardi di dollari di un anno fa l'utile netto è stato di 162 milioni di dollari rispetto ai 159 milioni di dollari di un anno fa l'utile base per azione è stato di 1.73 dollari rispetto a 1.1 dollari di un anno fa margine lordo del 34.2 per cento mentre quello netto del 3,8 per cento piccolo piccolo il che la fanno apparire come molto costosa da mantenere seppure porti su un enorme impero dell'intrattenimento ma si tratta a mio parere della apple o della ferrari dell'intrattenimento e con il ritorno di bob biker alla guida dell'azienda l'azienda potrà solo che ritornare a migliorare giorno dopo giorno synopsis la seconda scelta appunto è synopsis col ticker snps azienda che fornisce prodotti e servizi legati al silicio e ai software questa società opera attraverso due segmenti semiconductor and system design and software integrity il segmento di semiconductor and system design include la sua progettazione avanti avanzata del silicio prodotti e servizi di verifica e il portafoglio di proprietà intellettuale ip dei semiconduttori che comprende prodotti e servizi appunto che servono alle aziende principalmente nei settori dei semiconduttori e dell'elettronica questo segmento fornisce anche un software che si chiama eda eda electronic design automation utilizzato dagli ingegneri per progettare e testare circuiti integrati i cosiddetti chip quelli che tanto mancano poi c'è il segmento software integrity che comprende un portafoglio di prodotti e servizi per affrontare in modo intelligente i rischi software in tutto il portafoglio clienti e in tutte le fasi del ciclo di vita dell'applicazione questo segmento offre anche strumenti e servizi software che includono prodotti di sicurezza e test un'altra particolarità è che la società fornisce software as a service per la sicurezza delle applicazioni è un'azienda che non ha mai smesso di crescere seppure abbia subito i alti e bassi del 2022 come tutte le tech company però non sembra aver visto molti dei pianti in rosso di questo anno che è appena passato synopsis incorporated ha riportato i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 ottobre 2022 per l'intero anno la società ha registrato un fatturato di 5 miliardi di dollari rispetto ai 4.2 miliardi di dollari di un anno fa l'utile netto è stato di 985 milioni di dollari rispetto ai 757 milioni di dollari di un anno fa l'utile operazione derivante delle operazioni continue è stato di 6.44 dollari rispetto ai 4.96 di un anno fa margine lordo dell'ottanta per cento abbondante netto del quasi 19 e mezzo per cento con profitto netto e fatturato sempre in forte crescita si tratta di un'azienda che immagina e che crea molto valore per i propri azionisti la mia terza scelta nonché la prima in termini di preferenza è alfabet proprio alfabet casa madre di google e di tantissimi altri servizi a noi noti per la quale non serve alcuna presentazione alfabet è una holding che quota col ticker gogl per le azioni tipo a e gog per le azioni tipo c con numerosi segmenti e servizi che fanno parte della nostra vita di quella di tutti i giorni molto più del motore di ricerca che ormai opera praticamente in un regime di monopolio la nostra amata piattaforma youtube dove guardi questo video e tutti i servizi e i prodotti legati al mondo android che fanno parte anche i servizi come google cloud platform e google workspace google cloud platform consente anche agli sviluppatori di creare e testare e distribuire applicazioni sulla sua infrastruttura gli strumenti di collaborazione di google workspace dell'azienda includono applicazioni come gmail documenti in drive calendar meet e varie altre insomma non c'è bisogno che le presenti anche alcuni prodotti hardware magari non tutti lo conoscono come i chromebook che io ho utilizzato e che ho trovato straordinariamente veloci e performanti con costi estremamente contenuti alfabet ha riportato i risultati dei utili per il terzo trimestre i nuovi mesi determinati il 30 settembre 2022 per il terzo trimestre la società ha registrato un fatturato di 69 miliardi di dollari rispetto ai 65.1 miliardi dell'anno precedente l'utile netto è stato di 13,9 miliardi di dollari rispetto ai 18.9 miliardi di un anno fa l'utile base per azione derivante dalle operazioni continue è stato di 1.07 dollari rispetto a 1.42 di un anno fa margine lordo del 56 per cento circa con un margine netto che si fa il 24 per cento fermandosi a un 23,75 per cento anche l'oro sono una macchina da soldi ma senza lo svantaggio delle slot machine che ti fanno perdere molto di più di quanto tu non investi anzi quando tu non ti metta a giocare bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi delle tre aziende che ti ho menzionato e dimmi quali sarebbero le tre sulle quali tu punteresti per il 2023 e che non distribuiscono dividendi se questo video è stato il tuo gradimento ti chiedo come sempre per cortesia di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma te costa un attimino ma per me come puoi ben capire significa il mondo se poi sei nuovo su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che dirti ciao arrivederci a un prossimo video a presto